Buonasera a tutti, secondo appuntamento dell'edizione 2015 della giovane eccellenza mercato Nuovi Orizzonti, questa sera all'associazione Cuochi di Torino in via Bogino con la signora Cristina Desderi e il signor Davide Lovera dell'azienda agricola Parvadomus di Cavagnolo a Torino. Un appuntamento che ci riporta indietro nel tempo quando era bello vedere allevare all'aperto gli animali, non solo i bovini ma anche i suini come in questo caso. Una storia che oltretutto è particolarmente interessante perché ci sono dei retroscena dietro alla Parvadomus che ci piacerebbe far raccontare direttamente dei protagonisti. Innanzitutto, la vostra storia così giovani, così affermati e Parvadomus, cosa vuol dire tutto ciò? A Parvadomus l'etimologia la spiega Davide, essendo laureato in lettere classiche, prego. Parvadomus vuol dire piccola casa ed è semplicemente il nome che è stato dato alla casa all'inizio del Novecento dagli antichi proprietari e noi abbiamo desiderato mantenerlo e usarlo per contraddistinguere la nostra azienda. Ma un'azienda che non nasce da radici contadine piuttosto che di esperienze di elevatori, di latifondisti, di esperienze comunque legate alla terra e alla coltivazione. Infatti la signora Desderi mi pare che fosse e sia ancora una grande artista. No, grande proprio no. Però sì, ho studiato al conservatorio il violino e mi sono diplomata e il mio lavoro fino a qualche anno fa era quello di suonare in un'orchestra. Ho cambiato vita così come mio marito, però in parte origini contadine le abbiamo perché nella mia famiglia dalla parte di mio padre erano tutti musicisti, ma dalla parte di mia mamma erano contadini e quindi ho seguito tutte e due le strade. Mentre invece il suo marito arriva dal mondo dell'editoria. Sì, ho lavorato per 12 anni in una casa editrice scolastica a Torino e mi sono laureato in lettere classiche e quindi ho seguito un iter anch'io diverso per poi dedicarmi a tempo pieno all'agricoltura. E nel 2006, giusto? Sì, è nato il progetto Parvadomus. Che cosa vi ha spinto ad abbandonare due carriere di cotanto livello per entrare nel mondo della ristorazione in primis e poi dell'agricoltura vera e propria? Sì, nel 2006 abbiamo aperto un bed and breakfast in realtà, quindi affiancando l'attività di ricezione turistica per lo più con gli stranieri che ci individuavano attraverso il nostro sito. E comunque affiancavamo l'attività di bed and breakfast con i nostri lavori di prima. Poi però, vista la zona così emarginata e decentrata, c'era richiesta da parte dei nostri ospiti di avere una possibilità alla sera di condividere la nostra tavola, di cenare con dei prodotti tipici, anche perché da noi non ci sono ristoranti o attività recettive di questo genere aperte la sera durante la settimana. E da lì è venuta l'idea a mio marito di iniziare prima un'attività di azienda agricola con i piccoli frutti e un'azienda ortofrutticola principalmente. Dopodiché abbiamo aperto l'agriturismo, quindi abbiamo una recezione di circa 45 coperti, due salette molto piccole. E però, volendo dare in prevalenza i nostri prodotti, abbiamo voluto integrare con questa idea che ci è stata, diciamo così, suggerita da Mauro Daveni, che è un tecnico della Coldiretti che da sempre ci ha seguito e che ha detto perché non far rinascere questi boschi, provando ad allevare esattamente come fanno in Toscana o in Sud Italia o in Sardegna addirittura, i maiali allo stato semibrado. Quindi i nostri suini vivono tutto l'anno, 12 mesi su 12, all'aperto. E abbiamo provato con quattro suini tre anni fa e adesso ne abbiamo 110, credo, che per noi è veramente un gran numero, piccolo per un allevamento estensivo, ma grande, insomma medio, per un allevamento semimbrado. In così poco tempo da quattro capi a 110, ma si è ben capito anche dalla visita che ho fatto in azienda, nei boschi c'è lui a seguirli. Sì, sì, seguo io i maiali nei boschi e abbiamo il ciclo chiuso, nel senso che adesso abbiamo anche i riproduttori, le scrofe, e quindi nascono da noi e finiscono la loro vita da noi. E quindi poi, dopodiché, anche per la parte della trasformazione, la trasformiamo nel nostro laboratorio e abbiamo appreso le ricette da un maestro che ci ha insegnato, si chiama Ernesto, è il nostro amico e ci ha insegnato tutto quello che sappiamo sull'arte delle salumiere piemontese del Monferrato. Mentre invece per la Lady Chef mi pare che ci sia un precedente che si è svolto già in questa sede. Sì, sì, alcuni anni fa, siccome da sempre una delle mie passioni è la cucina, che ho semplicemente appreso da mia mamma, da mia nonna, dalla mia bisnonna, e quindi, diciamo, una passione tramandata da generazione in generazione. E poi mia suocera, per un complanno, ha deciso di regalarmi invece un corso di cucina qui, all'Associazione Cuochi di Torino, alcuni anni fa, dove Davide è venuto in veste di uditore. Ed è stato molto interessante comunque con la Lady Chef Andrea. Era stato veramente molto interessante per me, sì. E dopodiché adesso abbiamo questo piccolo agriturismo dove comunque la cucina, sì, si rifà un po' alle tradizioni anche tosco-emigliane, che sono quelle della mia famiglia, e comunque molto anche al territorio, oltre che la prevalenza a un 70% di prodotti nostri, perché abbiamo anche i polli sempre allevati nello stesso sistema dei suini, cioè liberi nei boschi, quindi tutti i derivati e frutta e verdura che utilizziamo in prevalenza nell'agriturismo e trasformiamo anche stagionalmente nel laboratorio. Quindi un circolo quasi completamente autosufficiente per quanto riguarda il consumo in agriturismo? Sì, quasi completamente, eccetto per il pane che prendiamo in montagna dall'agriforneria e per tutto il settore che riguarda i formaggi, latte e derivati. Quello non produciamo. Un ottimo inizio. Mi pare che non ci resti che attendere gli ospiti per lo show cooking e per approfondire ulteriormente. C'è ancora molto da dire sulla Parva Domus. Grazie. Grazie.